Ho atteso fino all'ultimo secondo possibile prima di fare questo video, quindi buongiorno a tutti ragazzi, buon pausa pranzo, buon giovedì e vi dico atteso fino all'ultimo perché volevo cercare in realtà di fare un contenuto unico in cui andavamo a parlare un pochino della partita di questa sera e un pocone, tantone di quella che poteva essere poi la risposta da parte del mondo al ricorso della Juventus questo esito ancora non è arrivato e quindi cerco di pubblicare questo video intanto perché è giusto così, perché oggi è il 20 di aprile, non è il 19 il 20 di aprile in teoria sul calendario doveva essere per forza di cose il giorno in cui si andava a discutere di Sporting Lisbona Juventus della partita invece purtroppo una serie avversa di circostanze ci portano ad avere un altro focus, un'altra attenzione la concentrazione tutta su un'altra partita che non si gioca su un campo da calcio purtroppo già questa è una sconfitta in partenza, o almeno personalmente la ritengo una sconfitta in partenza da tifoso, amante del calcio, amante del campo, ritrovarmi il giorno del quarto di finale di ritorno di Europa League che vale l'accesso a una semifinale di una competizione europea a dire che la cosa più importante nella mia testa adesso non è la partita, non è la conferenza stampa di ieri sera di Allegri e di Alessandro, bensì quello che accade in un auro di tribunale per me è una sconfitta è proprio da qui voglio partire perché credo che questa cosa vada terribilmente a complicare l'umore della squadra che non deve essere una giustificazione io non voglio che passi tutta questa intera questione relativa alla penalizzazione come una giustificazione perché sicuramente dal punto di vista mentale c'è stato un impatto la Juventus in campo prima della penalizzazione e post penalizzazione è rimasta sulla stessa falsariga anzi, addirittura per un tratto della stagione post penalizzazione abbiamo visto una risposta maggiore in termini fisici, in termini atletici da parte di alcuni calciatori quindi non credo che questo possa creare, generare alibi di alcun tipo sicuramente quello che è accaduto alla Juventus in questa stagione è qualcosa di terrificante dal punto di vista gestionale invece dal punto di vista dell'approccio della costruzione della stagione beh, i limiti li avevamo visti anche prima e infatti ce li troviamo a giocare Europa League ben prima della sentenza proprio perché dalla Champions siamo stati eliminati in un girone in cui il Benfica c'era sembrato per quello che siamo riusciti a mettere in campo noi superlativo e invece l'Inter è riuscito a superarlo e quindi avremo un derby di Milano in semifinale di Champions probabilmente un altro Benfica? Sì, probabilmente sì sicuramente anche poi un'altra Juve post penalizzazione appunto e quindi i rimpianti aumentano e c'è poco da fare vedremo, vedremo però sicuramente se il tifoso della Juventus oggi ha la testa completamente rivolta a questa partita che si gioca nei tribunali io non oso immaginare l'allenatore della Juventus il calciatore della Juventus che già ricevere questa notizia il giorno prima sarebbe stato terrificante riceverla magari il giorno della partita o a poche ore della partita infatti io mi auguro che nel primo pomeriggio si possa avere questo esito ufficiale e quindi tenete sotto controllo il canale YouTube attivate la campanella e faccio un appello un mi piace un commento e magari un'iscrizione se non siete iscritti al canale dato che tante persone guardano i video ma non sono effettivamente iscritte al canale quindi unitevi a questa community di discussione che siete assolutamente i benvenuti dicevo nel pomeriggio tenete sotto controllo il canale YouTube perché sicuramente andrà pubblicato un nuovo video prima del post partita di questa sera inerente appunto al quarto di finale di ritorno in terra portoghese sicuramente sicuramente i calciatori sono concentrati sulla partita però con un occhio guardano al campo e con l'altro guardano allo smartphone aggiornano guardano se è uscito qualcosa cercano le notifiche sicuramente bisbigliano e chiedono ai piani alti se qualcosa si è mosso e se qualcosa si sa però non deve passare il messaggio come dicevo prima che diventi un alibi e non deve passare il messaggio tra le altre cose che stasera sia facile perché Allegri ha detto due cose che mi hanno colpito molto in conferenza stampa e una mi è piaciuta una mi è piaciuta decisamente meno intanto Allegri dice non dobbiamo pensare di difendere l'1-0 perché non ne siamo in grado non è facile e non sarebbe nemmeno costruttivo è verissimo la Juventus non può permettersi di scendere in campo e difendere un misero 1-0 dell'andata in una prestazione dove comunque probabilmente il risultato non era nemmeno meritato lo ricordiamo è successo una settimana fa la Juventus è stata messa sotto più di una volta in più di un'occasione e i nostri due portieri perché sia Cesni che i Prince sono rivelati determinanti questa squadra non può scendere in campo questa sera in trasferta all'interno di un ambiente sicuramente caldissimo in casa di una squadra che si arriva nelle prime quattro eliminando la Juventus e l'Arsenal non può fare altro che esaltarsi quindi la Juventus non può arrivare allo stadio stasera e pensare di difendere 1-0 sarebbe follia questa roba non esiste quindi questa cosa mi è piaciuta molto queste parole uscite dalla bocca dei Ligri mi sono piaciute molto però non mi sono piaciute quelle che pronuncia poco dopo quasi nello stesso contesto dicendo beh sai alla fine un pareggio non sarebbe neanche male certo che il pareggio alla fine non sarebbe neanche male perché ti permetterebbe di avanzare una vittoria e un pareggio vai avanti però dobbiamo metterlo su un piano questo discorso di Allegri di ridondanza diciamo così perché non vorrei che possa essere una roba premeditata già nella conferenza stampa dell'andata Allegri diceva da quando hanno tolto il gol fuori casa che vale doppio passi cerchi di passare con una vittoria e un pareggio stasera Juventus deve scendere in campo per vincere non devi pensare che ha vinto all'andata e quindi con un pareggio passa se poi sarà pareggio sarà un altro discorso ma la Juventus deve scendere in campo per vincere perché a me sembra quasi banale scontato dover dire una roba del genere ma domenica 4 giorni fa a Reggio Emilia contro il Sassuolo abbiamo attuato questa stessa tattica del sai cosa alla fine possiamo riuscire a vincerla con il minimo sforzo e quindi cerchiamo di trattenerci all'inizio per poi venire fuori alla fine che vedrai che in qualche modo il gol lo facciamo 4 giorni fa se la Juventus scende in campo cercando di difendere 1-0 sicuramente prende una goleada se la Juventus scende in campo cercando di pareggiare la partita sicuramente non riesce nell'impresa perché è un attimo una deviazione un episodio un rimpallo una decisione arbitrale e la Juventus si ritrova magicamente catapultata fuori dall'Europa League partendo anche da un risultato di vantaggio infatti la Juve ha sì due risultati su tre ma non deve essere il focus principale quindi mister l'hai già detto nella conferenza stampa dell'andata una vittoria un pareggio e già lì avevo storto il naso dice anche nella conferenza stampa di ritorno per arrivare in semifinale un pareggio non sarebbe malissimo vero il pareggio non sarebbe malissimo ma la Juve non può assolutamente scendere in campo pensando ehi ma sai che io alla fine ho vinto 1-0 questo è un discorso che verrà fuori negli ultimi minuti di gioco non puoi approcciare l'intera partita partendo da questo presupposto perché perché non siamo in grado di gestire questa roba l'abbiamo visto a Sassuolo ed è stata soltanto l'ultima della lunga serie di prestazioni che ci hanno fatto capire che questo approccio non funziona apre chiudo a parentesi con questo approccio siamo pure usciti dalla Champions vincendo una partita sulle 6 disponibili e quindi niente noi ci vediamo nel pomeriggio ragazzi occhi ben aperti cerchiamo di captare tutto quello che arriva i giornali vanno in una direzione rinvio a giudizio quindi 15 punti restituiti e poi ne parleremo vedremo se davvero sarà così oppure ci sarà già un annullamento a favore della Juventus grazie a tutti